Per coprire, no, l'estate di Doveferri, quello che deve farsi lavoro è l'immansamatore. Ci siamo? Non si martica in pubblico. Pronti? Ciao Genena, raccomando collegatemi sul Puri Prespo. Dove vai tu? Vale. Quindi un minuto di tempo, che bel gioco. Marito fate le volte, ricattatevi a casa. E meno tre, e meno due, meno uno, e vai! A tata! Musica esistiana, vai Alessio! Guardate Marco! Guardate come è pratico! E andiamo, fate le stessi! A tattura, la musica giù della Greta! Vale, a tattura! Parola! Millicenticori, fatemi sentire! Comeple Cazzarose. Vai! ma con 30 secondi 15 secondi guardate il maschio che è un prato 3, 9, 8 3, 1, start e grazie adesso purtroppo non c'è arrivata quella quattro vedi un attimo protesta in corso Elena, questo video non aumenta la risposta